Ben ritrovati gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura oggi parliamo di cronaca di un 19enne, un nuotatore che ha iniziato la sua carriera di nuotatore proprio a Porto Gruaro. Si chiama Manuel, lui era a Roma, è a Roma ora, vive a Roma ad Ostia ed è stato finito nel mirino di qualche malvivente che lo ha scambiato per un'altra persona, gli ha sparato e ora è grave in ospedale. Una giovane che viveva proprio al confine con il portoguarese, a Sesto a Reghena e che il papà, con il cui papà aveva un locale proprio a Summaga. Insomma un giovane che ha vissuto in questa terra ora però in gravi condizioni. Sentite che cosa è successo nel servizio di apertura del nostro telegiornale. Scena da Far West a Roma, spari in strada nella notte, è caduto in piazza Eschilo. Poco prima delle due si è scatenata una lissa tra alcuni giovani in un pub della piazza. C'è poi stato il fuggifuggi durante il quale si sono sentiti tre colpi di pistola. Gli spari sono partiti da uno scooter a bordo del quale c'erano due giovani romani, uno di quali sarebbe già stato identificato. Rimasto ferito un 19enne Manuel Matteo Bortuzzo, nuotatore nato a Trieste da famiglia di Quinto di Treviso che è stato poi a lungo anche in provincia di Pordenone e quindi a Porto Gruaro ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra il giovane agonizzante, poi passato anche tra le fila della Padova. Soccorso, Manuel è stato trasportato al San Camillo. Il giovane dai primi accertamenti era del tutto estraneo alla rissa e sarebbe rimasto vittima di uno scambio di persona. I killer lo avrebbero scambiato per uno che gli assomiglia. Manuel è una grande promessa del moto. Nel 2015 aveva battuto il record italiano di Palin Trieri che con il team Veneto di Padova da pochi mesi si è tesserato con l'Aurelia Roma e frequenta il polo notatorio di Ostia. Manuel è stato sottoposto a un delicatissimo intervento che si è concluso l'equipe del professor Alberto Delitala di neurochirurgia, ha rimosso la pallottola dall'undicesima vertebra in cui era rimasto conficchiata. La prognosi resta riservata. Tecnicamente l'intervento è riuscito dopo il primo intervento per ridurre l'emorragia. Ma ci sarebbe la lesione al polmone e al midollo. La tretta rischia davvero la paralisi. Era fermo a un distributore di sigarette, Manuel Bortuzzo, quando è stato ferito da quel colpo di pistola. A quanto ricostruito anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza da uno scooter, gli hanno urlato qualcosa e quando lui si è girato hanno premuto il grilletto. L'atleta era in compagnia di un'amica e si trovava nei pressi del pub dove poco prima si era verificata una rissa e dove i due avevano tentato di andare via. Ma, viste le auto della polizia a corse per la rissa, avevano cambiato idea. Manuel è stato colpito dunque davanti a un distributore a circa 200 metri dall'entrata del pub. Il personale delle volanti, sentendo gli spari, si è così spostato davanti al distributore dove il ragazzo era già in terra ferito. È stato terrificante. A parlare è la ragazza che la scorsa notte si trovava con Manuel, il giovane ventenne, gravemente ferito a colpi di pistola alla periferia di Roma, però probabilmente per uno scambio di persona. Quindi la ragazza è stata poi ascoltata dagli investigatori e si trova all'ospedale San Camino di Roma in apprensione per gli esiti dell'intervento a cui è stato sottoposto l'amico ventenne. Non ho saputo niente. Io purtroppo ho solamente sentito dei botti, degli spari, però nel sonno non pensavo. Non ho associato. Poi ho sentito l'ambulanza. Non ha distinto quanti spari? Io penso un paio. Chi le ha detto la polizia? No, 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 no. Mi hanno chiesto solo che se potevano vedere le telecamere e basta. E gliele ha fatte vedere? Ma devono venire più tardi. Credo domani o dopodomani. Perché lei ha delle telecamere che sono sulla strada? Penso di sì. Non sono sicura. Manuel ha lasciato il segno in questo territorio e in tanti stanno davvero tiffando per questo campione. Ti rivolgiamo qui, hanno detto. Sentiamo. Si chiamano stimmate del campione perché sono rarissime e delineano un'attitudine da fenomeno già scritta nel codice genetico. Quello di Manuel Matteo Bortuzzo, 19enne, era un esempio lampante di destino da predestinato. Impossibile non notarlo, secondo gli esperti. Astro nascente del nuoto che fin dalle prime bracciate in basca nel centro nuoto di Porto Gruaro aveva mostrato tutta la naturalezza del suo enorme talento. Se vogliamo farne un parallelismo calcistico, sottolinea Roberto Borghi, presidente della Società Sportiva del Veneto Orientale, possiamo dire che era chiaro che sarebbe arrivato a giocare in Serie A. Ora invece, per un'assurda e drammatica serata romana, per un proiettile vagante, esploso davanti a un pub di Roma, la sua carriera e i suoi sogni di gloria rischiano di rimanere una triste incompiuta. Manuel ha cominciato a frequentare la nostra piscina quando aveva sei anni, racconta Borghi. I suoi genitori, originali di Trieste, all'epoca vivevano a Ramuscello, Sesto a Reghena, Porturale molto vicina, e quindi lui e le sorelle si allenavano qui. Iniziano così gli anni in cui Manuel si appassiona a questo sport, va a scuola, a San Vito a Tagliamento, poi a pomeriggio si sposta in Vasca, a Porto Gruaro, quindi poi per frequentare il primo anno dell'Istituto Luzzato, prima di trasferirsi a Quinto di Treviso con i genitori per motivi di lavoro del padre. È stato con noi dai 6 ai 14 anni, continua Borghi, poi si è spostato a Quinto e infine è portato al Team Veneto, prima di andare a Roma e giocarsi le sue carte. Manuel ha 19 anni, questi sono gli anni decisivi per vedere se il talento sfocia in qualcosa di più, perché i fattori per sfondare sono altri. Lui li stava coltivando, ma di certo quando era bambino si notava che era nettamente una spanna sopra la media. E il ragazzo la testa sulle spalle l'aveva sempre avuta, coltivando con l'allenamento e il lavoro le sue capacità innate. Forse anche per aiutarlo nel suo cammino, papà Franco aveva deciso di avvicinarsi per un periodo con il lavoro, prendendo in gestione insieme ad altri soci la pizzeria Quadri Tondo di Summaga. Manuel era sempre presente per farci un'arma a doppio taglio, soprattutto in quell'età in cui la sensazione di onnipotenza dettata dall'adolescenza può oscurare anche i buoni consigli. Non era il caso di Manuel, però, quando si allenava con noi, era un ragazzo dotato di una grandissima sensibilità, di un'estrema dolcezza. E questo grazie anche al supporto della famiglia che lo aveva tutelato e protetto nel modo giusto. Dopo le giovanini Manuel aveva lasciato Porturuaro, ma quella squadra che gli aveva fatto sbocciare l'amore per il nuoto non l'aveva mai dimenticata, tanto che a ogni gara o manifestazione per prima cosa andava sempre a salutare i vecchi amici allenatori. Ora però Manuel sta lottando per questa battaglia ben più difficile e importante di qualsiasi medaglia o traguardo sportivo. Ricoverato al San Camillo di Roma, raggiunto da quel colpo di pistola mentre si trovava con un amico nel quartiere Axe di Roma. Adesso il piano sportivo, conclude Borghi, passa ovviamente in secondo piano, a rischio c'è la salute. Non posso che augurare il meglio a Manuel e dirgli che spero di poterlo riabbracciare quanto prima. Sulla bacheca del padre di Manuel centinaia di messaggi di supporto tra amici, parenti, conoscenti, persino le maestre. Vado dove avevano studiato Manuel e le sorelle. L'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni quando Franco Bortuzzo ha postato un segnale di speranza. Intervento, riuscito, proiettile tolto vicino alla spina dorsale, polmone perforato e prognosi riservata. Che Dio ci aiuti. Forza, piccolo grande uomo. Cambiamo decisamente pagina, andiamo a Sant'Ona di Piave perché sono stati consegnati i primi cinque defibrillatori che faranno parte di una serie di attrezzature che andranno a salvare la vita inevitabilmente a quanti si trovano nel territorio del Sant'Ona Tese. Perché? Perché c'è in programma una lunga serie di defibrillatori che verranno posizionati nelle varie aree della città del Piave. Sentite il servizio. Cinque defibrillatori nelle piazze principali di Sant'Ona di Piave e il prossimo anno altri sei saranno posizionati nelle frazioni. Il primo è stato sistemato in una teca gialla su una colonna di piazza indipendenza. Dopo l'alza bandiera a posizionarlo lo stesso sindaco Andrea Ceresera e Danna Favero, presidente della associazione Amici del Cuore, che ha donato gli apparecchi salvavita alla città. Ad accompagnarli il dottor Fausto De Ferra, coordinatore del Dipartimento delle Attività di Emergenza per il Litorale e Loredano Milani, responsabile del reparto di cardiologia dell'ospedale di Jesolo. Nel corso del corteo anche la giovane Sofia Gobbo, la sindaca del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle ragazze di cui erano presenti parecchi esponenti. E naturalmente l'installazione del dispositivo salvavita è stata accolta dall'applauso dei presenti. La prossima settimana altri quattro apparecchi verranno collocati davanti all'asilo San Luigi, sul sagrato della chiesa di San Pio X, vicino alle farmacie Quinta Valle di Mustiere e San Giuseppe Lavoratore. La donazione fa parte del progetto Città Cardioprotetta, realizzato da Amici del Cuore in collaborazione con la ULS4, il comune che ha il compito di predisporre le colonnine dove inserire i defibrillatori. Il prossimo anno potremo donarne altri nelle frazioni di Calvecchia, Fiorentina, Chiesa Nuova, Grassaga, Passarella ed Isata, ha spiegato Favero. L'iniziativa, dedicata ad Antonio Pampana, ex associato ora scomparso, è stata sostenuta da parecchie aziende della zona. I defibrillatori semi-automatici vengono custoditi in una teca che mantiene costante la temperatura. Per usarli deve essere infranto il plexiglass protettivo, come per gli impianti antincendio. È necessario aver frequentato il corso BRSD Basic Life Support Defibrillation, ossia le manovre da compiere in caso di arresto cardiaco, ha aggiunto Favero. Invita tutti a partecipare ai nostri corsi. Il verso corso dei tempestati può fare la differenza in caso di arresto cardiaco. Saper usare i dispositivi è importante, ha ribadito Cereser, altrimenti il lavoro fatto è incompleto. In distribuzione è anche una mappa di tutti i dispositivi presenti in città, che comprende anche i 12 defibrillatori già posizionati nelle scuole a cura del comune. Il gruppo di amici del Cuore è molto attivo, con una costante collaborazione con l'azienda sanitaria. Tra le novità il progetto pilota Psicologo nel Cuore, che partirà tra due settimane. La psicologa Milena Spinato sarà a disposizione delle persone colpite da un evento cardiovascolare all'ospedale di Jesolo. Tempi e modalità sono in via di determinazione. Altra iniziativa per il 7 aprile, con la prima giornata dedicata al check-up in centro a Ceggia. Ora andiamo a Teglio Veneto. A distanza di 30 anni arriva una penale per il municipio. Perché? Perché 30 anni fa ci fu un ampliamento del municipio. Allora, consigliere, c'era anche il nostro Lauro Nicodemo, che è stato intervistato da Aldo Curtarelli e ci spiega un po' che cosa è accaduto. Siamo con Lauro Nicodemo. Lei è comunque il nostro collaboratore di Media24, per cui ci conosciamo bene. Parliamo di un fatto oggi estremamente importante che riguarda Teglio Veneto. La Cassazione ha fatto una sentenza dove il comune di Teglio Veneto deve pagare una somma, che poi lei ci dirà, una penale per un ampliamento del municipio fatto circa 30 anni fa. Siccome lei era consigliere comunale a quel tempo e comunque lei è una memoria storica un po' della politica di Teglio Veneto, ci puoi spiegare perché oggi i cittadini di Teglio Veneto devono pagare questa penale dopo tanti anni? Dopo oltre 30 anni vediamo di raccogliere alcuni dati, perché non è sempre molto facile fare riferimento alla sola memoria. Però è stato un periodo particolarmente di attrito politico verso la metà degli anni 80, tra quello che era la sinistra e quello che era quella volta la democrazia cristiana. Io ero democratico cristiano. Oggi, dopo oltre 30 anni, questa sentenza della Cassazione dà ragione ai confinanti, non tutti perché due si erano ritirati e altri due sono rimasti, perché c'è stato, secondo la Cassazione, e oggi ormai è diventata realtà, un danno di veduta. Che significa che nell'ampliamento del municipio è stato aperto una finestra di 100 cm per 150 cm che dà proprio verso i confinanti. Questo, la Cassazione ha riconosciuto il danno di veduta ed è attraverso il CTVU, cioè quindi attraverso un'aperizia tecnica, ha dato una valutazione per poter quantificare il danno attraverso un parametro che è di 3,5%. Però quello che è significativo è che quei fabbricati che oggi sono vetusti, che sono in una situazione quasi al limite della sicurezza, sono stati valutati al metro quadro 2.000 euro. Quindi siamo al di fuori di qualsiasi ragionamento, statistico anche, da qualsiasi valutazione tecnica che è stata data e che può essere data, da qualsiasi forma di mercato esistente oggi a Teglio Veneto, perché a Teglio Veneto oggi è un fabbricato nuovo, va sui 1.200 al metro quadro, qui invece siamo arrivati a 2.000. Il danno di quant'è? Il danno siamo verso circa i 65.000 euro, solo sul danno di veduta, perché qua poi c'è anche l'esproprio di una superficie, quindi credo che questo esproprio di superficie ancora non sia stato, e non lo è, è stato definito, pertanto la cosa non è definita. Per cui possiamo tradurre che il danno è di 65.000 euro? Però al di là di questo poi c'è anche l'avvocato di parte, ma c'è un altro significato che possiamo dare, perché da parte dell'amministrazione comunale, da parte della Giunta, secondo me qua pone un grande interrogativo. Per la valutazione dei valori degli immobili, per l'applicazione dell'Imu, se applichiamo questa sentenza, questo criterio, questa modalità, significa che non solo siamo fuori mercato, ma qua siamo realmente in una situazione estremamente pesante. Però c'è questa sentenza, dall'altra parte abbiamo un'amministrazione comunale che dovrebbe rivalutare l'Imu per quanto riguarda le seconde case, per quanto riguarda ad esempio anche tutto il processo per l'eredità, perché i valori vanno automaticamente a salire a livello esponenziale, valori che non corrispondono assolutamente alla realtà, però oggi il Comune è tenuto a pagare, anzi ha già pagato questa cifra, perché è esecutiva e il sindaco e l'amministrazione devono dare esecutività, però è un'esecutività che va a danno dei cittadini, a dimostrazione che quanto si diceva, e quegli anni, e faccio la premessa, che erano anni dove c'era una importante, forte conflittualità anche di carattere politico, noi queste cose nei bilanci, nelle cose, le avevamo sempre sostenute, avevamo sempre chiesto di poter essere più persimoniosi, di essere più attenti alla cosa della gestione pubblica, perché non saranno solo questi soldi che la comunità di Teglio è chiamata a pagare, ma vedremo tra poco che saranno chiamati a pagare, perché in questo senso sembra che ci sia un accordo tra il Comune e un istituto dove le cifre sono molto più numerose. E per un Comune piccolo come quello di Teglio Veneto significa che per i prossimi anni quella comunità dovrà pagare cose che magari non sono state fatte con i criteri, non sono state fatte come era previsto in alcuni casi anche dal Codice Civile, pertanto la comunità di Teglio oggi è chiamata a pagare cifre che sono realmente sproporzionate per una non oculata amministrazione della cosa pubblica. Parliamo comunque, e cerchiamo di chiarire, perché dopo tutto questo è il suo vostro discorso, che parliamo di un danno iniziato e commesso 30 anni fa. A Motta di Livenza a quanto pare si mette fine alla, permettetemi il termine, di Atriba con Oderzo sulla nuova caserma dei Vigili del Fuoco. Oderzo si era fatta avanti per ospitare la nuova caserma, visto che dove si trovano ora i Vigili del Fuoco sono di fatto in una struttura ormai obsoleta per i servizi che devono dare i Vigili del Fuoco. Da lì si cerca la nuova caserma, Motta di Livenza dice abbiamo trovato l'aria, ve la regaliamo. Vi regaliamo lo spazio per costruire la nuova caserma quando volete, qui è tutto pronto. La lettera è stata spedita a Roma dall'amministrazione comunale. Venerdì abbiamo inviato la comunicazione al Ministero dell'Interno, alla Direzione Federale dei Vigili del Fuoco e al Comando Provinciale, ha confermato il Sindaco Alessandro Righi. Abbiamo segnalato a questi enti che è a disposizione un'area per l'eventuale costruzione della nuova caserna. È in zona industriale sud, Motta la cede gratuitamente, dice. La questione era stata affrontata durante il Consiglio dello scorso 29 dicembre. L'edificio in via Lepido Rocco che ospita il distaccamento dei pompieri con gli anni è divenuto insufficiente a ospitare il servizio e ormai da decenni si discute di un cambio di sede. Fino a inizio dicembre sul piatto c'era una unica alternativa avanzata dal comune di Oderzo, ossia l'area dell'ex caserma Zanusso a Maggerà ceduta al comune dal demanio. Oggi c'è pure l'ipotesi di Motta. La novità era stata confermata durante la discussione di una variante al piano degli interventi illustrata in quel consiglio dal tecnico incaricato l'architetto Paolo Furlanetto. Si tratta di un terreno lungo la provinciale via Magnadola di circa 20.000 metri quadri attualmente privato che nei prossimi mesi sarà ceduto a titolo gratuito al comune in cambio di una perequazione. L'idea è di ospitare qui la nuova caserma. Sorgerebbe all'altezza della prima rotatoria lungo via Magnadola vicino all'azienda Inipress Righi ha spiegato i mezzi anche pesanti dei vigili sarebbero agevolati da una migliore viabilità rispetto alla sede attuale e aggiunge qualche settimana fa c'è stato un sopralluogo con i rappresentanti dei vigili del fuoco di Treviso e di Motta con la cessione gratuita del terreno e la comunicazione ufficiale. La palla ora passa al Ministero che dovrà decidere se l'eventuale investimento ma è chiaro che il primo scoglio quello di un'area idonea è stato superato. Stiamo facendo il possibile per garantire ai vigili del fuoco una sede all'avanguardia e ben collegata con tutto l'opitergino Mottense senza rischio idrogeologico conclude il sindaco in passato si parlò anche di un lotto in zona industriale nord però soggetto seppur limitatamente a rischio alluvione inoltre questa zona è ottimale rispetto al numero di interventi che statisticamente i nostri vigili eseguono nel corso dell'anno essendo a due passi dall'autostrada con il casello dice Salto gli scatti dal territorio arrivano con Vinicio Scortegagna c'è Fotoreporter grazie a Vinicio Scortegagna a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto orientale ci fermiamo con questa edizione non periva però di avervi ricordato che potete seguirci anche sulla pagina Facebook di Media24 vi auguro un buon proseguimento con la nostra rete ci ritroveremo con le altre news alla prossima